O meglio ancora nella grande banca Grabs di credito nel parco sigurtà. Ovviamente la prima cosa che si cerca quando si arriva in un luogo è il bagno. Quando c'è una grana e tu non sai che cosa fa, fai una pisciatina, fai una pisciatina. Flipping your fins you won't get so far. Legs are required for jumping, dancing. E posso chiedervi un favore, posso farmi una foto con voi? Certo. Di Metal Slug, no? Certo. E tre, due, uno. Heavy Machine Gun! Ho capito ora perché Samuel Red si fa chiamare Samuel Red. Perché ha i capelli rossi. Ma è... Gattoboy! Ma io sono Black Panther, a dire la verità. Ah. Wakanda Forever. Ciao, siete bellissimi. Tu sei con lui. Però non so perché mi sarei aspettato maggiormente che tu ti fossi vestito da cortare. E' il programma. Però no. Bellissimi, bellissimi anche questo. Questo è da Spider-Man da Multibus. Giusto? Filsoni. A presto, grazie. Ciao. They call me Kuban Pete. I'm the king of the Roomba Beat. When I play the Maracas I go... Chi-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci. Carpe diem. Una vita investita a cercare la carpa perfetta non è una vita spurecata. Questa è la pianta del fiore di l'oro e le sue foglie sono idro-repellenti. La sfida si fa sempre più ardua e nel tendone di Bake Off Italia è arrivato il momento della prova wow. Chissà chi riuscirà ad ottenere il grembiule blu. In questa puntata di Bake Off Italia dovrete affrontare la prova della torta Tenerina. Mi raccomando non aggiungete troppo cacao altrimenti si secca e rimane ferma qua. Per ora non abbiamo ancora visto nessuno vestito da Mega Plood o da Winamp. Il voto di Alessandro Borghese può ancora ribaltare la situazione. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso? Ah, quindi il figlio si chiamava veramente Giuseppe Carlo. Beh, abbiamo potuto verificarlo. Finalmente la mia figlia mi riuscirà in Italia da Nupescara. Namaste E Babar ci dirà Se nel suo villaggio tutto fila dritto oppure no Ok ragazzi, il video è finito. Sì, basta, è inutile che continuate a guardare.